Lancio lungo per Raff che vola in cielo e schiaccia. Perry si prende, questo tiro il capitano è ben fatto che ha un grandissimo movimento. Amici, forza, questo è il suono della sirena. Bravissimo, Troy Up! Grande Pipitone! Ancora un grande canestro per Pipitone. La tripla di Kenny Esbruck. Schiaffa che va a segnare! Ancora Esbruck, calcio di rigore a segno! Ancora Esbruck Ancora Esbruck Ancora Esbruck Ancora Esbruck Grazie a tutti.